Buongiorno a tutti, 7.04 minuti e 38 secondi in questo istante, mercoledì 27 settembre Buongiorno a tutti, mercoledì 27 settembre 7.04, ricomincio da capo così almeno lasciamo stare il 27 settembre, sempre qui e su Crystal Radio, comunque impappinarsi sull'apertura è proprio un'arbo di prendete e licenziatemi, vabbè sono sempre le 7.05, ho capito, diglielo tu a quelli che fanno, non so, iso radio che sono svegliate alle 4 del mattino e dire sull'A14 all'altezza di Barbarino è tutto a posto, perché alle 4 del mattino è tutto a posto, è l'unico momento in cui sull'A4 Milano-Venezia è traffico poco intenso, quante volte mai l'hai sentito? Mai, infatti sentiremo luce verde fra un po' che secondo me infatti ci dirà l'opposto all'opposto all'opposto, ma 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 ma, dicevo questa mattina qui con Lorenzo Masieri, buongiorno Lorenzo, buongiorno anche a Fabio, in diretta dagli studi di Milano News in quel di San Siro, la nuova puntata di Good Morning Milano su Crystal Radio, FM 96.2, Dub Plus, sito, applicazione e tutto il resto che ci avete per poterci ascoltare. Esatto, e se volete anche farci il buongiorno, mandarci le vostre colazioni, quello che volete, il numero è 331-7853-555. Acquamarina, Anamena, insieme a GUE alle 7.09 su Crystal Radio Milano, sempre qui in diretta, appunto su 96.2, Dub Plus e tutto il resto delle applicazioni, il sito, vi ricordo sempre che c'è anche il sito, cristalradio.it, che ve lo arrivate al lavoro, ve lo aprite, ve lo iconizzate sotto, mettete cuffie dicendo se ho la colla, e invece vi ascoltate Good Morning Milano, tac, le notizie, come Milano sono notizie, notizie di informazione locale, grazie al buono, Lorenzo Masieri. Allora, iniziamo subito con il fatto che oggi è il secondo giorno di Green Week. Ah, bene. Secondo... Eh? L'ho detto bene, buono, non lo so. Secondo giorno di Green Week, quindi giorno delle, pur essendo il secondo, introduzioni. E va bene. Perché è iniziata ieri, ma oggi... Come le serie tv che iniziano, poi dopo un quarto d'ora, dopo un quarto d'ora c'è la sigla iniziale, non mai sai che è così, e quindi anche la Green Week ha fatto così. Alla sala conferenza di Palazzo Reale, oggi mercoledì 27 settembre, dalle ore 9 alle ore 13.30, appunto si terrà il programma diciamo più istituzionale della Milano Green Week, con i saluti del sindaco, l'introduzione di Eliana Grandi e Marco Granelli, rispettivamente, assessore al verde del comune di Milano e assessore alla sicurezza e poi alcuni altri primi, diciamo, eventi, prime iniziative appunto della Week che ha a che fare con la sostenibilità, in particolare mobilità sostenibile, eccetera, eccetera, cose di cui parliamo tutti i giorni. Anche se non tutti sono proprio d'accordo, dopo vediamo, perché inizia anche la Grey Week. Inizia anche la Grey Week, un po' dopo non ne parliamo magari. Un contestazione, ho letto il comunicato bla 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 della Milano Green Week. Ah, citazione thumbergiana. Eh sì, Greta Thumberg, quando andò all'oro, lui disse, io c'è bla bla bla. Mi hai visto che faccio anche la voce, bla bla bla, perché parla vestendo su la svedese. Io sì, come sono molto più terra terra, Claudio Ranieri, ai tempi dell'Eister, te lo ricordi? Il Leicester, come ho chiamato io? Il Leicester, ok. Quando sono arrivati in Champions League, lui fa in conferenza stampa, we're talking about bla bla bla, but we are in Champions League, dilly ding, dilly dong. E da lì è nato il meme. Ah, ok, va bene. Perché gli allenatori italiani, quando vanno all'Ester, se ti ricordi, tra pattoni, eccetera, fanno meme. Stronzo, stronzo, mi ricordo tra pattoni. Com'è che è dilly ding dong? Dilly ding dilly dong, we are in Champions League, my friend. Ok. Do you like my ding ding dong? No, quella è un'altra canzone. Sì, quella è un'altra roba. Qua è Gunter, Gunter, come si chiama? Gunter. Ok. Comunque no, Grey Week dopo ne parliamo meglio, perché dobbiamo andare di spazio. Purtroppo adesso ritorniamo seri, perché per l'ennesima volta, appunto, da quando abbiamo iniziato il programma, ci tocca riportare una notizia di un ciclista investito da un pilato della strada e caccio al SUV nero, che è fuggito, titola Milano Today. Non bastava l'incidente, anche l'omissione di soccorso. L'incidente è poco dopo le 20 di lunedì in Piazza del Rosario. Il ciclista è di 34 anni in ospedale in codice giallo. Purtroppo dopo le 20 in Piazza del Rosario, c'è ancora la luce, ma è inspiegabile, inspiegabile davvero come la situazione sta degenerando velocemente. Ovviamente, vabbè, c'è anche molto più attenzione sul tema e quindi anche per quello tutti i giorni arrivano queste brutte, ahimè, notizie. Noi, sapete, non siamo soliti darvi notizie di Colanca Nera, brutte notizie, però qui c'è veramente un tema sotto, cioè non sono fine a se stesse queste notizie. oltre al brutto fatto appunto dell'incidente, c'è comunque una testimonianza di una città in preparata a accogliere, appunto, movita lenta, dolce e alternativa. Vediamo invece il traffico, ci colleghiamo con Luce Verde. Chimica, Chimica, Cesare Cremonini, 7 e 19 minuti, qui in diretta su Crystal Radio, sempre appunto perché, insomma, siamo in diretta, lo sapete, e lo sappiamo, lo sappiamo, siamo anche su Milano News. Siamo anche su Milano News, se ci volete vedere. Dicevamo, Lorenzo, cosa stavamo leggendo poco fa? Dicevamo, ripetiamo velocemente, che anche ieri, dopo le 20, in Piazza del Rosario, angolo via Solari, un ciclista è stato investito da un pirata della strada, un SUV nero che poi è fuggito. Il ciclista, 34enne, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso nell'ospedale San Carlo ed è stato trovato ferito a terra da un equipaggio del nucleo radiomobile dei Carabinieri che, appunto, passando in solare, ha notato un uomo. Vabbè, dobbiamo arrivare a dire meno male solo codice giallo, pensate come siamo messi. La cosa che mi ha un attimo colpito di questa notizia, mentre la stavamo rileggendo bene, è il luogo. Mi ripetiamo, Piazza del Rosario, giusto? Angolo via Solari. Ecco, Angolo via Solari. Allora, Piazza del Rosario, Angolo via Solari è quella via che c'è, appunto, su via Solari, da una parte Piazza del Rosario, dall'altra via Bergognone. Angolo via Solari, una via che è importante per il tema, perché 12 anni fa, abbiamo detto, se 12 anni fa, proprio l'11 di novembre, moriva Giacomo, bambino di 12 anni, finito con la sua bici sulle rotelle del tram e investito dal tram per via di una macchina in doppia fila. Ancora oggi, a poco più avanti dell'angolo, proprio in cui è avvenuto l'incidente di cui parlavi tu, c'è appesa una biciclettina bianca. È una delle primissime bici bianche, e ahimè non sono l'unica, ma ce ne sono tante in giro per la città, che ricordano appunto fatti del genere. Con Di Giacomo fu abbastanza importante, perché andava a far capire quanto un bambino che stava tranquillamente andando per i fatti suoi, nel suo quartiere, in una giornata normalissima, ha lasciato la sua vita per via della doppia fila, per via del tram, per via di tutta una conformazione di cose che, tra parentesi, se torniamo adesso, molto probabilmente ci saranno macchine in seconda fila ancora in quel punto, e se sei imbicillato ancora rischi di andare sui binari del tram. La cosa che mi ha sconvolto, appunto, della notizia che mi hai detto, è che questo nuovo incidente, per fortuna molto meno grave, è avvenuto a veramente 5 metri di distanza dal luogo in cui invece Giacomo ha perso la vita l'11 novembre del 2011. Noi cerchiamo magari anche di ricordarlo il 5 novembre, perché ogni anno facciamo qualcosa per ricordare quella data un po' che è simbolica di quello che rischiano ogni giorno i ciclisti, ma soprattutto di quello che è una mancanza di cultura, mi viene da dire anche di partisan una volta, perché anche i ciclisti ne mettono nel loro e come, però una mancanza di cultura, dell'idea che, dobbiamo dirlo, qui il mio amico Dubini magari si arrabbierebbe un po', però la città non è fatta per le auto, la città deve essere fatta per i cittadini, poi le grandi città sono fatte per i cittadini, poi ci sono le auto, ci sono i camion, ci sono i furgoni, ci sono le biciclette, i pedoni, i monopattini e tutto quello che potrà venire dello scibile, le macchine volanti più avanti, i taxi che volano da Rogoredo fino a Rofiera, però dobbiamo ragionare veramente che la città non deve essere solo ed esclusivamente per le automobili. Ad oggi forse sembra che invece sia un po' costruita su immagine, somiglianza e forma delle auto. Scusate la polemica però davvero, il fatto di aver correlato questi due luoghi, questi due incidenti, mi ha un po' toccato diciamo. Fabio, adesso ne parleremo, purtroppo ci tocca sempre fare riferimento a queste tragiche vicende tutte le mattine e comunque noi continueremo a parlarne e niente. E niente, cercheremo comunque di stare sul pezzo, come si dice in questi casi, di continuare a raccontarvele perché è giusto e perché bisogna anche fare un po' di cultura, appunto quello che dicevamo, sarebbe un po' di cultura, bene, noi cercheremo di farla. La facciamo anche con la musica però, adesso ci fermiamo poi per una piccola pausa, nella pausa della mezz'ora, ma non prima di aver ascoltato Sant'Anna con Corazon Espinado. A fra poco, ciao ciao! 7 e 28 minuti ben ritrovati, ben ritrovati qui su Cristal Radio, 96.2 FM, Dub Plus e anche in diretta su milanoallnews.it dagli studi di Milano All News, in quelli di San Siro, se passate a San Siro passate a trovarci, siamo qua a San Siro, potete venire a trovarci. Se volete tu facci una colazione non diciamo di no. Potete portarci la colazione, infatti diciamo così, studio aperto da oggi, se volete venire. Sai quell'iniziativa delle istituzioni? Il primo lunedì del mese, studio aperto. Noi tutte le mattine invece, studio aperto, 3317853555, vi mandiamo anche l'indirizzo, se volete. L'indirizzo aperto che non ha niente a che fare con... No, 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 con il telegiornale diretto da... sai che non so più chi è il direttore? Io sono rimasto a Paolo Giordano. Io posso dire una cosa, tra tutti penso sia... Non si può dire. No, 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 non è un giudizzo personale, è quello di cui so meno in... cioè non so neanche quando vai in onda. Di solito quando accendo so più o meno a che ora c'è... Credo 19.30. Secondo me invece è quello delle 18.30. 18.30, può essere così presto. Però non lo so, comunque se ti fanno... no, non quello studio aperto, ma il nostro studio. Apriamo lo studio di Milano News tutte le mattine. 331-78-53555, ci scrivete, se passate di qui dalla zona San Siro, via Novara, vi mandiamo l'indirizzo, ci portate la colazione e noi vi facciamo anche venire in onda a dire ciao alla zia se volete. Possiamo ripagarvi così. Siamo veramente... Capito, si fa quel che si può, cioè dobbiamo... Scusa, allora, il gran direttore di Cristiano Sardio ha detto, ragazzi, ragazzi, allora, così parla il direttore Cristiano Sardio, ho deciso che parla così. Allora ragazzi, Milano si sente, va bene? Sì. Però dobbiamo sentire anche Milano, quindi interazione, interazione. Ma anche con questo... Interazione non credo che esista. Vabbè, interazione, quindi facciamo, diamo voce a Milano. Quale modo è migliore di farvi venire qui in studio? Voi ci portate la colazione, accettiamo tutto, tutto, anche il Biroscio Vegani. Siamo aperti a qualsiasi esperienza culinaria. Io accetto anche robe speziate, cibo indiano, tutto. Sono le 7.30. Accetto tutto, anche il sushi alle 7.30 del mattino. Venite qua e parliamo di Milano. Ci dite, volete salutare la zia se volete, ma anche che adesso raccontarci quello che fate nella nostra città. Basta, adesso cercherò di... Adesso facciamo un appello ufficiale. Si chiama Good Morning Breakfast. Ok. E facciamo la possibilità di poter venire a fare colazione qui in studio con noi. Adesso parlo con il direttore che mi dirà, Raffi, a solito idee tue strambe che c'hai. Non me l'ha mai detto, ma me lo dirà. La persona avrebbe tutto il diritto. Comunque, cosa succede sui giornali locali, caro il mio Masieri? Velocissimamente ricordiamo... Oggi siamo molto in sala. No, ma oggi siamo in sala. C'è paura che finisce il tempo. Ma non ti preoccupare. Ma oggi è un buon tappetino. Comunque, venerdì 29 settembre, ricordiamo che, almeno al momento, è ancora in programma lo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto dal sindacato USB. L'ATM, come al solito, garantisce le fasce prima delle 8.45 e tra le 15 e le 18. Il resto della giornata potrebbe subire disagi. Quindi i mezzi non ci sarebbero, dalle 8.45 alle 15, niente mezzi. E dalle 18 a fine servizio. Semmerebbe, però non lo dico troppo alta voce, perché se ci sentono quelli di ATM e poi dicono Ah sì, Ranfi, vedi adesso cosa ti facciamo. Che ci sia poca adesione. Che potrebbe esserci poca adesione. Quindi non andiamo subito in un sbattimento come al solito. Però è anche vero che l'ultimo sciopero è grande. Quello dell'altro ieri? Quello di lunedì scorso. Due lunedì fa, se non sbaglio, durante la mattinata, quindi nella prima fascia oraria, alcun tipo di disagio. Nella seconda fascia oraria, quella del pomeriggio, solo l'M2. Sì, un pochino di più. L'M2 è un tratto di M1. Che comunque, non diciamo solo, poi diciamo a quelli che stanno a abitare, che hanno comprato una casa sopra la metodica, dicendo Cosa dice la metropolitana? Sfigati! E poi invece... E poi appunto, come sottolineavamo l'altra volta, la verde è proprio quella che forse è l'unica che prende l'Interland. Sai dove arriva? Fino a Cade Dio, si diceva una volta. Arriva fino a... Vendafö. 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 Comunque, tutto questo è Good Morning Milano, tutte queste sono le informazioni locali che il buon Masieri ci trova sui giornali, sta scartavellando e trovando qualcos'altro. Sì, velocissimamente. Velocissimamente, in questo caso giustificando. Ieri al Franco Parenti, al Teatro Franco Parenti, cinque ex sindaci, quindi Albertini, Pisapia, Moratti, Albertini, Borghini. Senza Formentini, senza Formentini, senza Formentini, perché ci ha salutato, c'è nel senso che c'è lasciato. C'è lasciato, esatto. Che hanno fatto, non t'ha tanto. 2 gennaio 2021, sono stati nominati appunto sul palco del Franco Parenti, ambasciatori dal centro studi Grande Milano. Quindi ambasciatori di Milano. Ambasciatori della Grande Milano nel mondo. Mi spiace per Formentini che non ha potuto avere questo bel momento insieme agli altri, ma insomma, cinque sindaci non era male. Infatti Pisapia, la ferma. Si è commosso? No, solo in questa occasione si riusciva a mettere insieme cinque sindaci. Pisa, e non erano neanche parenti tra di loro? No. Non ho capito questa... E al Franco Parenti l'hanno fatto. Va bene. Adesso è... Questa mattina è difficile, questa mattina è difficile. Sì, è difficile. Spero non per voi. Un po' di musica qui su Crystal Radio. In diretta qui su Crystal Radio. Stavamo discutendo, Florion, infatti per quello siamo arrivati un attimo in ritardo, perché stavamo discutendo dello stadio nuovo, perché ennesima notizia su un probabile nuovo stadio dell'Inter. Esatto. Il stadio dell'Inter, quindi quello a Rozzano. La mia, sì. Perché il mio dove lo fa a San Donato. Lo fa a San Donato. Ok, va bene. Stadio dell'Inter a Rozzano, titolo al giorno Milano, studio di fattibilità. entro aprile 24. Il sindaco Gianni Ferretti potrebbe arrivare anche la metro. E qui si è aperto il dibattito, in studio. Cosa vuol dire potrebbe arrivare ancora la metro? Allora, perché non dovrebbe essere nello spazio di fianco al forum. La metro c'è già. Probabilmente non è possibile raggiungere l'area dello stadio. Allungheranno, allungheranno dopo a Sago, fanno... Che panche lì? Chiamarlo Rozzano. Ma Rozzano uno immagina dall'altra parte. Quindi cosa fai? Fai una fermata e la chiami? La chiami Rozzano Stadio? Cioè, cosa fai? Posso dire che non ci andrei. No, certo. Però Rozzano Stadio mi... Non lo so. A me queste cose qua mi lasciano sempre... Com'è che si chiama quella? No, ci sarà... Lo Stadio si chiama. Sì, ma ci sarà lo sponsor di turno. Ah, avete notato che... Adesso non c'è più mi sa. No, allora, la stazione è completamente brandizzata da uno sponsor. Che però, molto probabilmente, gli hanno detto, bene, allora poi sono 100.000 euro per il nome. Gli hanno detto, ma vai che mi fai dargli il nome. Perché invece il nome è rimasto San Siro e basta. Perché prima invece c'era uno sponsor. Sì, era San Siro. Beh, è stato da zone, è stato per un periodo. Prima ancora c'era qualcos'altro che non mi ricordo. Però sì, sì. Invece adesso è tutta completamente brandizzata. Di un colore rosso. Di una bibita. Però non... Vabbè, l'hanno scritto Ole, Goll, c'è una cosa brandizzata a tema calcio, oltretutto da questo sponsor. Ma il nome non è cambiato. Ancora San Siro e basta. A me fa molto ridere quando ci sono... Sono sulla metro, guardo lì, come si chiama? La grafica. La grafica, ok. Che ti fa vedere le fermate. In linea. In particolare sulla Lilla, di fianco ad Alcune, c'è il logo di una multinazionale, eccetera. Esatto. C'è la Prisman. Di Coca Ponale. Ponale mi sembra sia Prisman, se non mi ricordo. Perché? Perché hanno pagato. Ho capito, ma perché io devo mettere la possibilità di brandizzare la metro? Perché così facendo, in teoria, il comune introdita di più, attivano introdita di più e ti fanno i servizi migliori. Questa è la regola. Cioè, questa è la favola che ci raccontano. Poi bisogna capire se è veramente così. In teoria, effettivamente, ne parlavamo anche con Monguzzi, qualche settimana fa, i mezzi pubblici di Milano, i mezzi pubblici della città, come funzionano? Metà sono sostenuti dai biglietti, da quella roba lì, ma l'altra metà è sostenuta dallo Stato, cioè non sta in piedi da solo con i biglietti, con gli abbonamenti che facciamo. E quindi si cerca di inventarsi altri metodi. Ci sono tanti posti in cui c'è, ci sono già tante pubblicità in metro. Metterla di fianco. 100 mila euro non era sbagliato, 100 mila euro all'epo adesso, non mi ricordo, qualche anno fa era la cifra che costava brindizzare per un anno una stazione della metro, che non è neanche tanto. No, infatti, pensavo peggio. Pensavo anche che è peggio. Ma forse non era per un anno, era per sei mesi. Però vabbè, comunque, non era neanche tanto, infatti. Ovviamente rientra in una situazione in cui poi ti faccio tutto il pacchetto, ti metto anche il treno, anche i treni ci sono con le pubblicità, anche mi fa molto ridere, quando entro sulla Lille c'è il foliage per terra, c'è il mare per terra. Quello che non si realizza solo poi estetica. No, quella è una pacchianata. Sì, quella è veramente una pacchianata. Perché il foliage è così bello quando... Sì, ma non sulla metto. Quando tu arrivi al 13 di agosto... Ma poi non sono neanche giù. Infatti non sono neanche giù. Sbagliano a mettere il treno e quindi si mettono quello con il foliage. Comunque, ecco voi l'angolo della polemica di Lorenzo Masieri con la legna Lilla a questo punto, dove hai capito che è la Lilla, che lui ce l'ha su con la Lilla. Va bene, continuiamo con la musica qui su Crystal Radio. È il momento di Carl Brave insieme a Max Gazzè, 7.41. Carl Brave insieme a Max Gazzè, Cristo di Rio dal 2022, 7.45 minuti, sempre qui su Crystal Radio in diretta appunto dagli studi di Milano All News in quel di San Siro. Eh sì, e a oggi, visto che appunto siamo qua a fare la segna stampa, eccetera, qualche giorno fa abbiamo letto che è finito un bando indetto da Regione Lombardia in cui sostanzialmente se si finanziava la sostituzione di una macchina inquinante, è il solito bando per incentivare la mobilità green sostenibile. Per avere qualche informazione in più abbiamo provato a chiamare un presunto un presunto ufficio di Regione Lombardia attenzione, al quale ha risposto un presunto segretario di un presunto Attilio Montano. Insomma, so che poi siete niente di amici tu e il segretario in questione, giusto? Almeno andiamo a sentire allora l'intervista, la presunta l'intervista. Desidrea Culegas con l'uffizio del Presidente della Regione Lombardia. You're waiting to be connected to Regione Lombardia. Desidrea Culegas con l'uffizio del Presidente della Regione Lombardia. Qui parla Mio e Balduccio. Pronto? Salve e Balduccio, noi ci conosciamo. Pronto, con chi parlo? Sono Masieri di Good Morning Milano, ce l'hanno già sentiti più volte. Mi chiamavo Masini, Masini, ancora Masini, qui che andava sempre Masini, qua non si canta, Masini. Ma perché non chiamano Masini, chiamano Masieri, non Masini. Ma non capisco mai questo. Presidente, dobbiamo cambiare il numero, qui chiama sempre uno che vuole cantare un Masini. No, non voglio cantare, voglio parlare con il Presidente di una iniziativa che è terminata la settimana scorsa, ossia un bando per incentivare... Ah no, un bando, la banda suona rock. non c'è la campagna. Presidente, continuiamo con la musica, non l'ha capito che siamo la Regione Lombardia, non siamo un zecchino robo. Un bando per incentivare la transizione da una macchina inquinante a un'elettrica. Ah sì, io non la capisco quando parlo, popolare italiano, per favore. No, io parlo italiano e lei, Balduccio, che ha delle difficoltà nel comprendere. Comunque, volevamo sapere se il Presidente può parlare per questo bando, dirci due parole, spiegare un attimo perché appunto vogliamo incentivare. Attenta che chiedo al Presidente. Presidente, c'è voglia di parlare con questo? Ah, faccio finta che non c'è, va bene? Adesso glielo dico, sì, tanto non mi sente, c'è il disco, va bene? No, Balduccio non ha messo il disco, è vergognoso, non ha messo il disco e l'ha fatto apposta. Masini, pronto, mi sente? Il Presidente è impegnato, ha detto che non, no, non ha detto niente perché non c'è, è impegnato, è in missione. Ma lei è veramente vergogno, è in missione. Lei è un insulto a chi lavora seriamente nelle segreterie, lo dico, Balduccio, lei è un insulto. Ma io non so, non c'è il Presidente, non posso chiedere niente, devo chiedere al Presidente ma non c'è. Ti vergogna, guardi, io adesso in qualche maniera riuscirò ad avere il numero del Presidente, bypasserò, non lo capisce e sono contento che non lo capisca la sua scrivania. Non l'ho capito a chi passa ma niente, non l'ho capito questo. Riproveremo, riproveremo settimana prossima. E quindi cosa vuole questo band? La banda suona rock e quindi... No, volevamo parlare con il Presidente. Non c'è il Presidente, se vuole può chiedere a me, può chiedere a me. Allora, richiameremo, lei non ha mai ferie. Può chiedere a me, no, io sono un lavoratore stanavista, stanavista, statalista, starilasta. Allora, mi dica lei cosa ne pensa appunto di questo bando per incentivare la mobilità elettrica. Ho un band di macchine che fanno schifo, chi le vuoi chiedere? Un band di macchine che fanno schifo, chi le vuoi chiedere? Io non la capisco, Balduccio. Un band di macchine che non vanno più, chi le che fanno a Carogni, che fanno un fumo nero, chi le vuole chiedere? No, quale lo dobbiamo andare dentro per... l'abbiamo fatto, l'ho fatto anch'io. Ho chiamato la cugina mia e gli ho detto... Siamo in diretta. Capite, volete sapere come funziona? Allora, il bando funziona così. si dice, voi moderni dite queste parole. Noi italiani. E dite che si mette dentro e si cambia per una macchina nuova, elettrica. Sì, o ibrida, certo. No, arrivo di ibrida che muove nell'acqua la macchina. No, no. Masini, ma che... Ma qual è il ibrido? Ma che stai a te? Masini che la macchina va nell'acqua? Ma... Non va nell'acqua. Ibrida vuol dire che utilizza sia il motore elettrico che il combustibile. Ce lo dice lei, va bene. Ce lo dice lei, ci ha convinto. E' carburante. Quindi poi le macchine vanno nell'acqua, va bene. Comunque, allora abbiamo fatto una prova, abbiamo fatto una prova con Cugino Sanduzzo, no, che saluto, anzi, posso salutarlo in diretta? Lo sta facendo. Sanduzzo, bello vi, come è stato? Bene, funziona ancora una macchina nuova? Sì, vabbè, non è che dovete... Ecco, abbiamo cambiato la macchina, abbiamo preso a Renault 4 delle zie, che stava tutta rotta, che faceva... E uno zero. Faceva un fumo che sembrava ha preso 4 pile da Duracell messe in da motore e adesso funziona. Ma Balduccio, ma non credo. E la regione ci ha dato 3.000 euro per questo. 3.000 euro? Sì. Ma le ha presi lei e non gli ha dati la regione? io non prendo niente, io non posso. Perché lei è un ladro. No, non posso. Lei è un ladro. Ma no, io sono bravo. Lei è un ladro perché innanzitutto la pagano per essere lì nella scrivania che di fianco c'ha il presidente. Non c'è, presidente, guardi, lo vedo qua di fianco che non c'è. Balduccio, guardi, io oggi sono arrivato al limite della sopportazione. Cosa vuoi? Le vuole parlare con il presidente? Vorrei parlare con il presidente. Provi a richiamare settimana prossima. Chiamiamo settimana prossima. Ci provi. Lei, per favore, la vedo affaticato, vada in ferie. No. Vada in ferie, Balduccio. È da 81 che non faccio le ferie. Ma che cosa mancherebbe? Vabbè, ci riproveremo. Grazie mille. Arrivederci, Masini. Arrivederci. Neymar Ezza con Bella alle 7.53 minuti, sempre qui su questa radio. Vedo che non va mai molto bene la tua interlocuzione con Palazzo Lombardia. No, eh, non so. Fabio, io ho chiesto più volte che venga dato a Mimmo Valduccio. Cosa vuoi fare? Le ferie, le ferie. Un foglio di via. Le ferie. Le ferie, vabbè. Chiamoci una persona seria. Rimaniamo però in Lombardia, anzi, rimaniamo a Palazzo Lombardia, giusto? Sì, anche con un'iniziativa tra l'altro presa dal Presidente di Regione Attilio Fontana. Allora, compito la settimana, devi chiamare Attilio Fontana per chiederti di questa iniziativa. Io ci provo, io ci provo. È la terza settimana che ci provo. Sarà intitolato, infatti, a Silvio Berlusconi il Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia e la cerimonia ci sarà venerdì 29 settembre appunto per intitolare il Belvedere di Palazzo Lombardia all'ex premier, al defunto ex premier. Belvedere, Silvio Berlusconi. Sì. Così si leggerà? Posso dire meglio di Aeroporto Silvio Berlusconi. Sì, forse sì, ma non credo che uno escluda l'altro, quindi attenzione. No, infatti, infatti, però, però, beh, Non è che lo fanno? Venerdì. E sai perché è venerdì? Perché? È il suo compleanno. No, è il giorno dopo il suo compleanno. No, il 29 settembre. Leggo una testata giornalistica che dice il giorno dopo il compleanno. Allora lo fanno sabato. Eh, non lo so. Allora, se lo fanno venerdì è il suo compleanno perché il 29 settembre è il suo compleanno. È il suo di Bersani. Il suo di Bersani, bravissimo, quindi lo sembra benissimo, tanto che appunto Battisti fece seduto in quel caffè e non pensavo a te. E quindi... Velocissimamente, chiaramente, la decisione divide per Francesco Maiorino, capogruppo del PD in regione, sostiene che debbano essere intitolati a persone che hanno unito e che uniscono i luoghi di interesse pubblico e Berlusconi ha diviso molto, sostiene. Però posso dire una cosa, secondo me la parola belvedere Berlusconi è stata spesso nella sua vita. Sai quando passavo con una bella donna e dicevo, vuoi che belvedere? Quindi insomma, ci sta, è una parola che possiamo accettare e una continuità, bravissimo. Anche se mi fa ridere però, belvedere Silvio Berlusconi, mi fa un po' ridere, come l'idea di vedere lui bene. Come dicevi te, potrebbe essere solo l'inizio. The Jackson don't stop till you get enough. Non fermarti finché non hai abbastanza, cioè, perlomeno. Giusto? Sì, non lo so io, io te l'ho letto di sì, ma io in inglese non lo so bene. Allora non lo sai. Sì, te l'ho letto di sì. Grazie, grazie, grazie mille. La voce che sentite è quella di Lorenzo Masieri alle 8 e 12 minuti su Crystal Radio qui a Good Morning Milano. Allora, dicevamo che è iniziata Green Week ieri, però la inaugurano oggi. La inaugurano oggi, non so, alle 9 e 30, ricordiamo. Green Week a tardiva maturazione. Palazzo Reale, sala conferenze, alle 9 e 30 ci saranno i saluti del sindaco e poi... Il saluto al sole. No, no, e poi Pilates, no, e poi ci sarà l'assessore Granelli alla sicurezza, l'assessore Alverde, chiaramente, l'assessore Alverde, Leanna Grandi, eccetera, le prime iniziative. Non inizia però solo la Green Week, ma inizia anche la Grey Week, che non è una roba di binge-washing di Grace Anatomy, no, non iniziamo tutti a vedere Grace Anatomy. Anche perché fare il binge-washing di Grace... Non basta una week. Assolutamente, quante sono 17 stagioni? Non lo so, sì, una roba del genere, quindi non basta una week. Domani, 28 settembre, i comitati ambientalisti scendono in piazza contro green-washing e cementificazione. La rete dei comitati della città metropolitana di Milano rilancia infatti l'iniziativa Grey Week. con cui già a settembre 22 sferrò un'aspra critica nei confronti dell'ipocrisia della Green Week e dell'ambientalismo di facciata della giunta sala. In sostanza, si invitano tutti i milanesi che sono stanchi del bla 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 green e del green-washing promossi dal comune di Milano appunto a partecipare giovedì 28 settembre ore 18 in piazza della Scala al palinsesto della Grey Week. e quindi la Grey Week il bla 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 anzi devi farlo un po' come dice Greta Thumbra bla 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 fa così bla 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 italiano bla 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 è svedese c'è l'accento capito devi far così va bene comunque c'è anche un sito hai detto dove si potranno vedere ah c'è la pagina facebook della Grey Week 2023 ma quale città green in cui si potranno vedere gli eventi appunto organizzati in contestazione forestami bagnami che cos'è nel senso è la risposta appunto root la risposta underground alla grande iniziativa forestami del comune Bicocca e tanti altri che hanno appunto deciso di piantare adesso mi ricordo male entro il 2035 il 2030 scusa 3 milioni di albere milano cosa del genere che se vai a vedere non so neanche se ci stanno infatti è un po' una sparata un po' alta come cifra però beh l'idea è quella appunto di rendere la città più green molti hanno detto beh bella iniziativa il problema qual è stato che avete messo gli alberi poi non li avete bagnati per via della siccità e tutto che è vero che insomma la siccità era un problema importante ma è vero anche che questi alberi non bagnati e tutto sono praticamente morti la più della metà alcuni anzi poi hanno avuto i problemi che abbiamo visto in conseguenze dietro e allora da lì è nato il comitato Bagnami oggi ne parlavamo c'era un altro nome che mi hanno detto cosa che era forestami e poi dimenticami ecco forestami e poi dimenticami è stata una delle iniziative che hanno fatto insomma però interessante perché sono cittadini con un occhio ben vigile sul tema e che appunto cercano di aprire un po' anche il dibattito su che cosa è veramente green e cosa non lo è cosa lo è di facciata sostanzialmente infatti senza dare giudizio la green week noi effettivamente ci saranno spero cose reali sappiamo che anche insieme alle cose reali sicuramente saranno invece anche cose un po' di facciate quindi giustamente ben venga la green week che farà un po' da controllore anche di cosa si eroga il diritto di essere green e cosa no continuiamo con la musica qui su Crystal Radio 8 e 16 minuti mercoledì 27 settembre siete sempre qui al microfono con Fabio Ranfi e Lorenzo Masieri e continuiamo in diretta fino alle 9 se volete 331 78 53 555 scriveteci al nostro whatsapp quello che volete noi siamo qui per voi tons and I cioè tons e io e io e io e beh sì non so chi è lei se lei è tons e sono io se lei è io io sono tons non lo so va bene mi manda un po' in sbattimento ogni volta se tu ti chiami Tina Turner è più facile capito un esempio tipo Simon Ragnar non sai bene e chi è Simon Ragnar Ragnar ah beh lo sai cioè John Steele Nash c'erano anche una volta tre e poi chiamati the Beatles cioè non è che si chiamavano John Paul Ringo e George quando hanno fatto il progetto Fabio Sylvester di Gazze tutti insieme Fabio Sylvester di Gazze bravo non saprei dire John Paul Ringo e non ce la faccio vedi non ce la faccio benvenuti siete collegati con il reparto di psichiatria radiofonica di Milano News buongiorno a tutti qui su Cristal Radio siamo qua appunto con Good Morning Milano stai scartabellando vedo con i giornali locali c'è qualcosa di interessante ieri il ministro delle infrastrutture Salvini a margine dell'inaugurazione abbiamo riportato la notizia anche noi del tratto 5 corsie dell'autostrada Milano Laghi ha annunciato visto che al momento i lavori è tutta l'apparato diciamo l'apparato decisionale era un attimo sospeso che nei prossimi giorni metterà dice gli 88 milioni necessari per non erano 90 ma non sai ancora cosa voglio dire satica politica 90 milioni della Lega no non erano 90 quelli della Lega erano 90 milioni no non erano 90 era un altro numero che non mi ricordo va bene andiamo avanti necessari per la tramvia Milano Linate Milano Limbiate scusate Milano Limbiate Milano Limbiate Limbiate quella diciamo quello che viene soprannominato ribattezzato appunto 49 49 infatti anche ribattezzato Frecciarancio che perché è perché prende tutta la comasina no ma poi riprende il vecchio trenino che andava appunto all'imbiate che c'era no no c'era questo trama arancione appunto ecco forse perché che andava sì sì sulla comasina e c'è ancora qualche pazzo qualche pezzo qualche pazzo c'è ancora qualche pazzo ma c'è ancora qualche pezzo di rotaia abbandonata ogni tanto qui e là sulla comasina che va su sì 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 e quindi ma fino a qualche anno fa poi andava adesso se l'hanno tolto da poco poi l'hanno rimesso poi a un certo punto faceva un tratto solo esterno poi hanno fatto un tratto solo interno insomma beh meno male che sicuramente è utile perché cavolo vi assicuro mi è capitato di farlo la comasina per le bici cioè la comasina è fatta solo per le auto infatti infatti no ma poi soprattutto non si può pensare no le metropolitane buca passa sotto questa lo spazio ce l'ha adesso puoi metterla la metti in sicurezza e ci puoi far passare fondamentalmente una metropolitana leggera lì sopra cioè altro che tramvia ma i tramman cioè puoi fare una roba che va che porta migliaia e migliaia di persone che comunque arrivano dall'interno milanese della zona appunto nord e vengono giù e possono venire a Milano da sottolineare che nel frattempo però chiaramente per le varie situazioni che conosciamo i costi sono lievitati fino a raggiungere una somma stimata di 180 milioni di euro 180 milioni di euro per fare quanti chilometri adesso lo guardiamo però anche qui non si capisce mai cioè fanno un preventivo e poi boom cioè ma neanche quando viene cioè beh hanno fatto il bagno non è che sì vabbè ma ho speso bo 200 euro in più credo ma neanche c'è senso vabbè non lo so prima dicevamo appunto la serietà il farsi capire no? cioè se tu sei una cantante c'è un nome e un cognome Tonsenai ci manda un po' fuori testa lei invece aveva un nome e un cognome tra parlando ti pensa il cognome non è neanche suo l'aveva preso dal suo ex marito pensa a te sto parlando di Tina Turner con uno dei pezzi cult della sua discografia Simply the Best Olli ogni volta lo rendiamo così ma beh ma devo dire che non mi dispiace neanche il caro Olli chissà come starà quell'altro chi? Benji ma ma io il bello è che io cioè non mi spingi nemmeno a fare la spalla dici delle cose talmente improbabili che io per forza ti devo chiedere cosa come me la canto e me la suono da solo ma che diceva se faccio una domanda si dà una risposta allora guarda adesso campione miei chi? chi? ah stiamo come? ok così poi li campioniamo tu puoi stare a casa a dormire tu vieni qua con il pad e fai così schiacci i pulsanti hai capito? chi? poi ci fermiamo ok perfetto va bene stai scartabellando vedo cosa scartabelli sulle notizie locali di oggi? brevissima più che notizia è una curiosità perché il corriere della sera a Milano appunto riporta questa notizia che da uno studio di confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza circa il 28% delle aziende impegnate nel settore terziario utilizza l'intelligenza artificiale quindi i poteri dell'intelligenza artificiale conquistano anche il commercio quindi non solo chi scrive online chi chi è che la usa principalmente chi fa contenuti chi fa marketing ma sai che secondo me questa è la nostra percezione sbagliata secondo me molto probabilmente ci sono delle categorie che lo usano già da tempo e molto più di noi cioè di noi appunto che facciamo contenuti che facciamo queste cazzate qua di parlare beh allora nel senso quando immagino i dati analisi dei dati stavo dicendo quando è venuto quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma tante antenne tanti alberi perché la Green Week a Milano no quando è venuto qua Francesco Martelli direttore della cittadella degli archivi di Milano se avevo campionato qui mettevo il tuo chi e così facevi una brutta figura appunto fuori onda e in parte anche in onda abbiamo parlato del ruolo dell'intelligenza artificiale e assolutamente nella gestione dei dati nella gestione degli archivi sicuramente viene utilizzata già la decennia viene già usata da un po' e dice adesso con questo tipo di intelligenza artificiale rischiamo veramente una grande rivoluzione anche nell'utilizzo e la fruizione dei nostri strumenti che diventano davvero anche attuali pensate solo come anche la ricerca appunto in un archivio può cambiare e anzi può diventare con l'intelligenza artificiale ma stamattina era così quasi proattiva cioè tu cerchi una cosa ma magari l'intelligenza artificiale ti può proporre altre cose pensa può arrivarci da solo a dire secondo me ti interessa anche questa cosa e te la propone può da solo fare ricerche e ragionamenti su collegamenti tra varie epoche secondo me è una gran figata diciamocelo bisogna secondo me leggere dalle fonti corrette togliere praticamente tutto quello che diciamo noi giornalai beceri che lo facciamo in titoloni per fare grandi cose ma poi non parliamo della sostanza e invece andare a vedere dove già l'intelligenza artificiale nella medicina ad esempio viene utilizzata per aiutare uno strumento per aiutare per far sì che il tuo lavoro diventi più semplice e ti possa concentrare di più sulle cose importanti io l'ho usata solamente due volte ti dico la verità per curiosità domandando cavolate una volta per avere una traccia diciamo per scrivere una cosa ok un biglietto d'amore no un biglietto d'amore hai capito si può dire cosa? la tua fidanzata che scrivi biglietti d'amore con chat innanzitutto non sono fidanzato così si scherza si scherza un giorno potremmo raccontare la tua storia d'amore perché? beh perché è una bella storia è una bella storia è nata tra le mura di Milano News senza una denuncia di molestie esatto è una bella storia poco moderna visto che non ci sono delle denunce però insomma è una storia d'altri tempi verrebbe da dire no a parte gli scherzi domandato solamente cavolate veramente sono rimasto sorpreso adesso voglio provare nel prossimo stacco faccio una domanda da chat GPT per vedere cosa mi rispondo io ti dico che il primo contatto che ho avuto con chat GPT è stato qual è stata l'importanza di Alice Cooper nel panorama musicale horror shock musicale tipo una roba del genere e mi ha detto sono nati vari Marilyn Manson Rob Zombie eccetera ha preso un po' dai chi no ha preso un po' i chi sono arrivati dopo sono arrivati dopo Alice Cooper una cosa non sa sì sai che Alice Cooper ha fatto anche una versione di Jesus Christ Superstar non lo sapevo prodotto dalla BBC Channel 4 sì con John Legend che fa Gesù con Tarno Speso no fa Gesù sì John Lennon fa Gesù e Alice Cooper fa una parte non mi ricordo se fa Erode o Pilato uno dei due però comunque hai detto è scappato mi sa John Lennon e non John Legend no John Legend John Legend scusate John Legend no John Legend mi sembra che fa Gesù una versione abbastanza particolare per i puristi ovviamente blasfemia lo so io sono uno di quelli invece che ama tanto Jesus Christ Superstar non sono però un purista e quindi anche quelle versioni un po' strambe che si trovano in giro non sono poi così male anche se vedete John Legend che a un certo punto flutta nell'aria con una croce di luce dietro fa un po' sorridere effettivamente un po' too much e sai chi è too much ma so che ti piacciono di brutto a te eh sì se mi piacciono ti piacciono tanto sono Elio Elio e le storie tese fallo sballo bene? Elio Elio e le storie tese è un po' così che pezzo che pezzo che pezzo bellissimo 8.41 minuti lo studio qua ha ballato tutto eramo solo io e te quest'oggi siamo andati solo in studio però è stato molto bello ballare chic to chic con te grazie cosa vuoi dire guancia guancia ah è una bella immagine sì infatti è una bella immagine grazie mille a chi ci sta scrivendo al 3317853555 ovviamente appunto abbiamo un'erica che dice che top sto pezzo e vabbè ci piace vingere facile dillo no 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 dillo su e mettete voi qui vediamo se sei capace di dire che top sto pezzo e invece grazie mille a Katia che si collega invece al nostro discorso di poco fa sull'intelligenza artificiale e dice il problema è uno come Masieri che l'intelligenza non è vero no non è vero non è vero dice il problema non è l'intelligenza artificiale ma è l'applicazione di quest'ultima come surrogata quella umana quando c'è io giungo perché poi effettivamente è che appunto viene usata male quando quella umana viene a mancare perché se tu usi un'intelligenza umana spiccata la sai usare anche l'intelligenza artificiale se tu ti sei un perla no però banalmente Fabio stavamo parlando appunto del fatto che Google o comunque comunque banalmente tu io non parlo mai banalmente cioè l'internet indicizza in maniera migliore diciamo cose che si si autoscrive sostanzialmente eh più o meno sì ahimè quella è una cosa strana quindi se io devo vendere qualcosa eccetera adesso e tra cinque anni chi me lo fa fare tra cinque dieci anni di mettermi io a scrivere un qualcosa se appunto verrà indicizzato meglio quello che si autoscrive il problema qual è però voglio capire questo se appunto Google mi può dare una mano perché anche Google ha la sua intelligenza artificiale molto probabilmente se gli chiedo scrivimi un pezzo per pubblicizzare su Google magari ti scrivo anche Google così l'ho contento questa roba mi aiuta perché sa se stesso anche cosa ha bisogno e quindi mi scrive un pezzo che molto probabilmente in italiano suona anche un po' così un po' cacofonico in alcune situazioni cosa succede? io va bene vengo indicizzato bene il mio pubblico arriva sul mio sito poi legge sta roba qui scritta male compra lo stesso questo bisogna capire cioè sicuramente Google il suo mestiere l'ha fatto cioè ha come si dice in termine convertito neanche convertito ha indicizzato bene il mio contenuto e mi ha portato il traffico sul mio sito ma poi riesco invece in questo caso giusto a convertire questo pubblico questa gente in reali vendite oppure la gente dice voglio comprare una roba ma non capisco cosa sto comprando boh non lo so vabbè allora diciamo che non sono scritte in maniera eccessa però sono più che comprensivi cioè nel senso le scrive un mimbo balduccio le scrive oppure no no le scrive no comunque no è quello quello sarà il grande tema io lo ripeto sempre se riuscite leggete il libro di Harari 21 lezioni per il 21ismo secolo perché per quanto riguarda algoritmi e robe varie l'impatto che hanno sulla nostra mente sui nostri sentimenti soprattutto c'è un capitolo che è stupendo mi si chiama l'autore? Harari ok non posso dirlo io devi dirlo tu grazie con l'h davanti ciao veramente veramente bello lui parte quando parla appunto dell'effetto che hanno sui nostri sentimenti questo sì banalmente parte dal fatto che Spotify e varie cose se tu pigi brani che mi potrebbero piacere al 99% quel brano lì ti piace eh sì e quindi sono canzoni sono canzoni pensa dove si potrebbe arrivare attenzione però a non andare in paranoia cioè nel senso non è che adesso è tutto il grande fratello è tutto attenzione cioè si può fare le cose si può utilizzare con parsimonia mi raccomando quindi niente paranoia o meglio come direbbe Gali insieme a Madame gancio fantastico attenzione niente pare alle 8.45 minuti Gali compare insieme a Madame Gali è una delle più belle canzoni dal 2022 scusa è una delle più belle canzoni che hanno fatto insieme dal 2002 che era Robby Williams forse mi è venuta in mente patti bravo quando recentemente in un l'anno che verrà lì il programma di Capodanno fa buon 1918 a tutti ed era il 2018 è bello non male non male ultime notizie perché poi dobbiamo salutarci fra poco Corriere della Sera Milano Lex Trotto di Milano chi è Alex Trotto? Lex Trotto è una persona Alex Trotto? no Lex come Run for Inclusion ah ok Lex Trotto di Milano rinasce con i progetti per i ragazzi di San Siro e casa che hanno ne convenzionato infatti è un progetto un investimento di Heinz mi hai detto Heinz si si so che si chiama così io leggevo Ines invece no è Heinz che non è da confondere con quella del ketchup ok si costruiscono case anzi di un certo livello prevede di ospitare oltre 3.000 persone con 700 case riservate a inziani e giovane coppie l'investimento di Heinz ammonta 450 milioni e riguarda un'area di 130.000 metri quadrati ti capi? sai cosa si direbbe a Milano? Ciumbia ah ciumbia sai cosa si direbbe a Roma? no no non si dice no non si dice non si dice hai visto qualcuno è arrivato in redazione qualcuno è arrivato in redazione sì è arrivato Weekend con il morto non so se l'hai visto la nostra social media manager è arrivata buongiorno buongiorno a Cristina che è arrivata in redazione con noi siamo contenti di vederla lei un po' meno una via di mezzo tra Weekend con il morto e Ray Charles l'hai visto? c'ha questi occhiali neri che non si vede niente al di là non si può scrutare però anzi ringraziamola in diretta ringraziatela anche voi che state ascoltando perché ecco lei che poi crea tutti i vari contenuti che rivedete durante il pomeriggio lei e l'Angelo messi insieme insomma fanno questa team questo squad questo crew che lavora appunto e quindi poi durante la giornata potete rivedere tutto quanto sui social di Cristal Radio e di Milano News e anche sul sito internet di Milano News e anche su Youtube tutti i vari nostri sketch i pezzi le interviste la faccina del Bob Masieri gli interventi a cuore aperto e gli interventi chirurgici no insomma potete rivedere tutto grazie all'ottimo lavoro della squadra che sta al di là del vetro come si dice in questi casi ma veramente qua c'è il vetro quindi lo possiamo dire è vero sono tre finestrelle e quindi è vero continuiamo con la musica sono le 8 e 50 minuti siamo quasi in chiusura i prossimi sono dei ragazzi ragazzi una volta io come al solito non vedo adesso vediamo ti ci porto ti ci porto pian piano sono dei ragazzi non più ragazzi anzi che stanno a una certa distanza molto breve da un pianeta lontano da noi avanti hai capito c'è un pianeta lontano da noi un pianeta lontano da noi Saturno no un altro più vicino Marte bravissimo loro stanno a una distanza diciamo di qualche cioè stanno a una distanza corta da questo pianeta però non metrica io non so veramente cosa dire vorrei sì giusto giusto anzi mi mancano pochi secondi ah 10 secondi no 10 10 sono i cugini di campagna loro no 10 è quello summer ah 30 30 second tu summer to mars ma che se è summer 30 secondi ma sono un'altra roba non c'entrano niente sono i 30 secondi to mars ma che poi non sono quelli di Jared Leto non lo so allora non sai niente non lo so ma io mica faccio il produttore radiofonico Cristina sono giusto ho detto giusto che sono quelli di Jared Leto i 30 second to mars fammi un ceno dall'altra parte no c'è già addormentata no weekend con il morto c'è già addormentata la scrivania niente vabbè dai allora ascoltiamoli sono i 30 second to mars con stack qui su crystal radio alle 8 e 51 minuti poi torniamo per salutarci con la nostra grande sigla grazie a tutti